Grande attesa domenica per i ragazzi dell'Under 15 dell'Andrea Lescitra Pallamano di Ragusa, che affronteranno al Pala Parisi le Rosolini Hollis Club, con cui avevano già vinte in casa, mentre nel precedente turno sul terreno di gioco a Ratuseo hanno subito una sconfitta di misura appena alla lunghezza. L'allenatore Giorgio Ragnolo ha dichiarato che ci sono tutte le condizioni per fare bene contro un avversario che si conosce e che per questo motivo non si sottovaluta. In questi mesi i ragazzi, ha continuato Ragnolo, sono cresciuti parecchio e sono pronti adesso a dare il meglio dopo la sconfitta subita. Ciò lascia sperare dunque per un finale di stagione all'altezza della situazione. Sembra domenica ma a Enna è previsto l'allenamento per la selezione siciliana per i giochi delle isle in programma a Catania a fine maggio. Della squadra fa parte anche Bartolomeo Donzella, espressione dell'Andrea Lescitra Pallamano Ragusa, che cercherà di tenere alto il vessilio Lesette Ebleo. Grazie a tutti.